Uno dei meccanismi che ti spinge a dormire è la cosiddetta sleep pressure, la spinta a dormire. In ogni istante il tuo corpo utilizza la molecola ATP come riserva di energia per svolgere le sue funzioni. Ogni volta che usiamo un ATP, attraverso una serie di reazioni, produciamo un prodotto di scarto, l'adenosina, un po' come quando produciamo CO2 dalla combustione della benzina dell'auto. Ogni istante che sei sveglio, quindi, consumi energia, consumi ATP e nel tuo organismo, in particolare nel tuo cervello, si accumula adenosina, il suo prodotto di scarto, che risulta quindi un indice di quante ore sei stato sveglio. Più si accumula, più hai sonno, perché questa attiva dei recettori specifici del cervello che ti spingono a dormire. Ed è questa la sleep pressure di cui ti parlavo. Dormire di contro rimuove adenosina.